Violenza sessuale di gruppo arrestati due 27 anni dalla squadra mobile della Questura di Venezia. Lo stupro avvenuto nel 2016 nei confronti di una ragazza italiana che all'epoca dei fatti aveva 18 anni e aveva conosciuto uno dei due estropatori in un locale di Mestre e con lui aveva avuto un flirt. La ragazza lo aveva poi seguito nella sua abitazione a Marcon dove si trovava anche il secondo ragazzo. I due, secondo quanto accertato dagli investigatori, avrebbero approfittato della diciottenne abusando entrambi di lei nonostante la giovane avesse cercato in tutti i modi di respingerli. I due erano intracciati dopo una serie di monitoraggi, uno dei quali fermato a Vittorio Veneto e ora condotto in carcere a Venezia dove dovrà scontare la pena di sei anni di reclusione.